La 49esima edizione dei premi internazionali Ennio Flaiano è già preludio di grandi celebrazioni in vista del traguardo del mezzo secolo di iniziative organizzate in onore dello scrittore, sceneggiatore e giornalista abruzzese, al quale Poste Italiane quest'anno, in occasione dei 50 anni dalla morte, dedica un annullo filatelico. La presidente dei premi Carla Tiboni, questa mattina alla presenza degli assessori regionale e comunale alla cultura Daniele Damario e Maria Rita Carota e dei delegati degli sponsor della manifestazione, ha annunciato alla stampa i nomi di tutti i vincitori delle sezioni letteratura, cinema, teatro, televisione e giornalismo. Il 2 e il 3 luglio le cerimonie di premiazione saranno ospitate dal Teatro d'Annunzio di Pescara e potranno essere seguite anche nella diretta di Reteotto che sarà condotta dal direttore Carmine Perantuono, mentre dal 27 giugno al 1 luglio si terrà il Flaiano Film Festival. Tra i volti più noti che saliranno sul palco per ritirare i riconoscimenti, per la sezione cinema ci saranno il regista Giuseppe Tornatore per il documentario dedicato a Ennio Morricone, gli attori Antonio Albanese e Stefano Accorsi, l'attore regista Edoardo Leo, il cast del film L'Arminuta, tratto dall'omonimo romanzo del premio Campiello Donatella di Pietrantonio, per il teatro Pegasodoro al regista Cristof Zanussi, all'attore Pier Luigi Pizzi, premio alla carriera, riconoscimenti all'attrice Donatella Finocchiaro, l'attore e cantante Gialuga Guidi, per il musical Aggiungi un posto a tavola, portato in scena la prima volta dal padre Gianni Dorelli, per la televisione riconoscimenti agli attori Fabrizio Bentivoglio e Anna Ferzetti, figlia di Gabriele, moglie di Pier Francesco Favino, al regista Daniele Lucchetti e al giornalista Paolo Mieli per il programma televisivo Passato e Presente, per la sezione giornalismo premi alle inviate di guerra in Ucraina Stefania Battistini e Francesca Mannocchi. Grande successo anche quest'anno per il Festival del Cortometraggio, il concorso che ha visto la partecipazione di circa 3.080 giovani concorrenti da ogni parte del mondo. Omaggio a Ugo Tognazzi nel centenario della nascita dell'attore e sarà la figlia Maria Sole a ritirare il premio. Abruzzo Film Commission intanto sta per diventare una realtà, come ha annunciato proprio questa mattina l'assessore Damario, spiegando che si stanno reperendo i finanziamenti necessari. Una notizia che non può che renderci orgogliosi, ha detto la presidente Tiboni. Una notizia importante è quella della Film Commission perché credo che sarà un volano per la regione Abruzzo, in tutti i sensi. Senza cultura non c'è sviluppo, non c'è sviluppo sociale, non c'è crescita. La cultura è fondamentale per la comunità, credo che la politica debba aiutare la cultura perché è una questione di crescita. Noi speriamo, con l'aiuto delle istituzioni, di riuscire a trasformare il Media Museum in MOC, Museo Officino del Cinema Ennio Flaiano, costituire qui una scuola di cinema con attori, registi, sceneggiatori e creare quindi anche un indotto, non soltanto culturale, un indotto economico che faccia di Pescara una città internazionale.